Per esempio due ragazzi, Pierpaolo Farina... E con questo rientriamo nel tema portante della puntata. Esatto, abbiamo parlato delle scuole, del teatro, della televisione e anche la rete. Pierpaolo Farina e Francesco Moriaghi nel 2013 hanno messo in piedi Wikimafia. È un elenco, una raccolta di voci che analizza luoghi, eventi, stragi, mette a disposizione un'enciclopedia. Non è soltanto a disposizione, ma è lì per essere aggiornata e messa anche a posto, diciamo così. Tutte le voci, come adesso sto cercando di farvi vedere, ci sono le linee guida, ci sono le cose da fare. Ci sono delle voci che devono essere ancora controllate, voci che necessitano dei miglioramenti. Insomma, chiunque abbia informazioni o voglia avere informazioni ha una rete a disposizione e può sempre contribuire a mettere nuove informazioni. Grazie. Professor Dallachiesa, in uno degli ultimi capitoli lei scrive chissà se potrà mai esistere un'Italia senza mafia. E poi aggiunge, credo, purtroppo, di no. Da dove questo pessimismo? Posso dire che Wikimafia è fatta da miei studenti e miei laureati, e in particolare un mio laureato che ha animato questa grande iniziativa. Hai capito? A che serve? Bene, complimenti.